È appena arrivato un carico di 800 scatoloni che sono i kit settimanali per una famiglia e verranno distribuiti in queste ore attraverso gli empori della solidarietà, la rete delle parrocchie, delle mense caritative e del terzo settore. È uno dei pilastri delle azioni che l'amministrazione comunale ha messo in atto per affrontare il tema della povertà emergente. Ricordo che è in corso in queste ore già da ieri sera la consegna dei buoni spesa a quanti ne hanno fatto domanda. Da oggi partiranno questi kit alimentari familiari per arrivare nelle case prima di Pasqua. Arriveranno anche delle colombe e dei dolci per ricordare che è il momento della Pasqua e ovviamente continueremo con queste consegne anche nelle prossime settimane. Questa è solo la prima trancia, qui ne seguiranno altre.